Trasportava grano in barba la normativa vigente, adesso dovrà rispondere dei reati di trasporto di merce destinata ad uso alimentare nociva e detenzione per il commercio di sostanze pericolose per la salute pubblica. L'operazione è stata effettuata dagli uomini della postrada durante un servizio di controllo sulla statale 115 in territorio di Vittoria. Una pettuglia ha fermato un autocarro con rimorchio condotto da un ragosano di 57 anni. Il conducente dichiarava di aver dimenticato i documenti dei mezzi, ma gli agenti accertavano via terminale che il mezzo era privo di copertura assicurativa e che il proprietario non era iscritto all'albo degli autotrasportatori. Non solo, anziché trasportare come previsto da un documento 30 tonnellate di grano, ne stava trasportando più di 40. Ad aggravare la situazione il fatto che il mezzo non è risultato idoneo al trasporto, in quanto non era ermetico ed igienicamente carente. Infatti, sulle sponde erano ancora presenti i residui di precedente merce trasportata e alcune riparazioni erano state effettuate con silicone. In alcuni punti delle sponde erano presenti anche germogli. Pertanto, veniva richiesto l'ausilio dell'ASL. Le analisi successive consentivano di appurare che il grano era contaminato da presenza di frammenti di insetti di diversa specie e impurità solide. A seguito degli accertamenti, la polizia stradale ha proceduto al sequestro penale del carico e a denunciare il conducente, da sequestro dei documenti occultati emergeva ancora che il ragusano aveva già trasportato grano duro canadese, spagnolo, mais bulguero, farina di soio ottenuta da OGM.